La Sagra della Vongola di Goro La Sagra della Vongola di Goro Il convegno è organizzato per venerdì 23 luglio alle ore 17 un convegno in cui verranno affrontati gli aspetti legati allo stato di salute della Sagra di Goro, dando ampio spazio al dibattito fra produttori, consumatori e denti pubblici. Il convegno vedrà anche la partecipazione del Parco del Delta del Po, il tutto finalizzato alla certificazione ambientale EMAS della Sagra di Goro, il trampolino di lancio per un'ulteriore valorizzazione del prodotto e del territorio. Non mancheranno ovviamente gli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare vongole, cozze ed altri piatti a base di prodotti tipici del territorio del tizio ferrarese.